È partito? Come è partito? Sì, la signorina Bull ha telefonato molto presto e lui ha fatto subito le valigie. Ha detto che era dispiaciuto ma che doveva partire. Ha anche detto di non preoccuparsi. Ma come? Non ha detto altro. È partito senza dare nessuna spiegazione. È tutto quello che ho saputo. A quell'ora io dormivo. Forse non gli piaceva l'atmosfera che c'è in questa casa. Maddalena! Ma chi l'ha autorizzata a dare giudizi? È una insolente. E tu non dici niente? Te ne stai lì tranquillo come se la cosa non ti riguardasse. Io proprio non ti capisco. Mia cara, se vuoi la verità, io ho ben altre cose in mente che questi stupidi problemi. Tra l'altro mi fa anche piacere scoprire che Alexis ha un bricciolo di carattere. Ma è scorretto nei confronti di Raphael. Ah, a proposito, dove è finito Raphael? Credo sia andato con Priscilla a fare un po' di shopping o qualcosa del genere. Quello ragazzo mi pare molto a posto. Le farà compagnia. Io credo che Priscilla sarà contenta di non stare sola con la cameriera. Signore, la desiderano al telefono. È il signor Michel. Scusami, vengo subito. Grazie. Non ti è mai venuta voglia di sparare con l'arma più potente? Sparare ad una bottiglia non mi dà piacere. E se invece provassi a farlo sulle persone, che succederebbe? Potrei cominciare con te. Allora guarda e impara. Risparmiati per mia madre. Io non ho bisogno di nessuno. Niente male. Ma credo che il tuo sport preferito sia quello di sedurre le donne. Non rispetti i problemi...